Terza sconfitta consecutiva per il Barano, che allo stadio Ascarelli di Ponticelli a Napoli perde 4-0 contro il punto di svolta, a cui l'ottima è in partita contro una delle squadre più accreditate nel girone B del campionato di promozione. Due gol per tempo lanciano la formazione allenata da Domenico Panico, che si prende il secondo posto solitario in classifica alle spalle della capolista Bois Caivanese. Resta fermo a un punto il Barano, penultimo dopo cinque giornate davanti solo allo Stabia City. Qualche minuto di ritardo per un problema alla rete di una delle due porte e poi si comincia con il punto di svolta subito padrone del campo. Arcello prima e Chianese poi sporcano i guantoni di Delicato, che viene chiamato anche ad una bella uscita bassa per fermare l'incursione di Amoriello. Al dodicesimo si fanno vedere per la prima volta gli ospiti. Buon cross di Galahui, ma la girata di De Luca finisce lontana dal bersaglio. Intorno al minuto 18, invece, i padroni di casa sfiorano per due volte il vantaggio. Mischi in aria sugli sviluppi di una punizione battuta da Chianese, il pallone diventa buono per Falanga, che calcia dall'altezza del dischetto del rigore spedendo di un soffio a lato. Pochi secondi più tardi Amoriello sfonda sulla destra e mette al centro un pallone teso che a corso respinge sulla linea. Come un treno arriva Chianese per la ribattuta a botta sicura, ma colpisce il palo e un compagno di squadra in posizione di fuorigioco. Sono le prove generali per il vantaggio del punto di svolta che giunge a un passo dalla mezz'ora. Traversone col contagiri sul secondo palo di Chianese, incornata vincente di Amoriello, con la sfera che dà un bacio alla traversa e finisce in porta. Il barano non si scuote e va in confusione, così bastano appena sei minuti per assistere al raddoppio. Tanto spazio nel corridoro centrale per Arcello, che è il tempo di prendere la mira e calciare col destro a giro. Delicato si tuffa, ma non può farci nulla, 2-0. Prima dell'intervallo anche Costanzo vuole iscriversi nel tabellino dei marcatori, ma la sua conclusione finisce di poco alta. Dall'altro lato, al 44esimo, Trofa prova a scuotere i suoi con un gran tiro, che Mercurio mette in corner con un balzo felino. Di fatto, sarà questa l'occasione più pericolosa del match per il barano. Nel secondo tempo, la scuola di Mister Di Meglio prende in mano il pallino del gioco, senza però riuscire a far male. De Luisa centra in pieno la barriera su punizione da ottima posizione e poi, per due volte, cerca il Jolly dalla distanza ma non inquadra lo specchio. Anche Trofa e Cerase si giocano la carta del tiro da fuori, senza fortuna, mentre il punto di svolta in contropiede va in rete alla prima chance della ripresa. Solito show di Amoriello che porta a spasso la difesa e con un tiro cross serve di fatto l'assist a falanga per il comodo 3-0 sotto misura. È l'ammazzata definitiva sulle ambizioni di rimonta degli Aquilotti. Con generosità, Pesce e Invernini cercano il gol della bandiera, però a segnare sono ancora i partenopei, ancora letali, in ripartenza con l'inserimento di Costanzo. Nel finale si rivedono di nuovo gli isolani con il colpo di testa di Galaoui e con un fiacco tentativo di Pesce, che nel recupero reclama anche un rigore per un sospetto contatto in aria del punto di svolta. L'arbitro non colcede il penalty e fischia la fine del match. Per il Barano va in archivio un pomeriggio da dimenticare.